Cari amici, cari amici, eccovi qua il nuovo video intitolato Libri e Cacciottare. Da questo autore, che si chiama Alfonso Luigi Marra, e da questo autore è stata inaugurata, ma non ora, è già un anno che è avvenuta, un anno, un anno e mezzo che è avvenuta l'inaugurazione, è stata inaugurata una nuova era nel campo dell'editoria, Libri e Cacciottare. Dunque, devo premettere che di questa singolarissima pubblicità di libri, e mi ha parlato, e l'amico, vedete, questo l'amico, sempre questi strani nickname che si fa tanta fatica a pronunciare, caro, ma cambialo questo nickname per favore, va bene, va bene, caro. Beh, allora, l'autore Alfonso Luigi Marra è un anno, un anno e mezzo, che è imperversa con la pubblicità sulle televisioni, mi pare pubbliche e private, ci vogliono tanti soldi, cari, sapete, per fare queste pubblicità con le Cacciottare. E questa è una Cacciottara nota, però io non so chi sia, so che una volta, un anno fa circa, i libri di questo autore, Alfonso Luigi Marra, erano pubblicizzati dalla Cacciottara Mercuri, non ricordo il nome di Mercuri, però è anch'essa una bella Cacciottara, alla Rubi Rubacuore, va bene, anche Rubi Rubacuore è un'ottima Cacciottara, e niente di male, sapete, la Cacciottara è una figura meravigliosa, la Cacciottara, la Cacciottara era, forse è ancora oggi, era una florida ragazza, come Rubi Rubacuori, che nella Cacciottara, la domenica, veniva messa a vendere la Cacciotta, anche la ricotta, si chiamavano anche le ricottare, ricottare o cacciottare, e per vendere la Cacciotta e la ricotta si mettevano delle belle ragazze floride nei mercati domenicali, e così adesso Alfonso Luigi Marra, per vendere i suoi libri, e ci mettevano vicino delle ricottare o delle cacciottare, come si faceva nel passato per tanti secoli, ma come si fa ancora oggi, nella ciociaria, nei mercati domenicali, vedete, belle cacciottare, se sono in bighini è ancora meglio. L'autore Sveglio, questo è un autore Sveglio, cari, e io so che un grande avvocato del foro partenopeo, mi pare che è stato, o dè ancora, un parlamentare, e il fatto è che per fare queste operazioni ci vogliono tanti tanti soldi, e il nostro Alfonso Luigi Marra disquisisce, che è contro, per esempio, contro il signoraggio, contro il signoraggio, si fa bello, no? E cattura le simpatie di tutti perché fai dei discorsi contro il signoraggio, però credo che ce n'abbia parecchi dei soldi, dei soldi in banca, capito? Perché per fare queste operazioni ci vogliono tanti, tanti, tantissimi soldi. Ma come si può arrivare a queste situazioni, cari amici mie, cari amici mie, come si può arrivare a queste situazioni? A queste situazioni uno, diciamo così, uno scrittore, un narratore, ci arriva solo dopo che è stato rifiutato da tutte le case editrici, quelle serie pagano, non qui da pagamento. Allora, se uno esiste grammaticamente, ah, che sia chiaro, i libri di Alfonso Luigi Marra non figurano in nessun catalogo editoriale italiano. Io ho fatto la mia ricerca, potete farla pure voi, vedete www.marra.it e i libri ve li comprate da www.marra.it ma magari sono anche in vendita in libreria, cari amici, ma è tutto a pagamento di Alfonso Luigi Marra. Cioè, dietro questo business c'è un bel conto in banca, ma ci deve essere un conto in banca favoloso, favoloso. E poi dopo mi sono tanto meravigliato, perché so che Alfonso Luigi Marra ce l'ha tanto con il signoraggio, però c'è anche un bel conto in banca. E essendo stato rifiutato da tutte le case editrici, che ha fatto? Dice, vabbè, ma il libro me lo stampo da solo, i libri me li stampo da solo. Vado in banca, tiro fuori centinaia di migliaia di euro, qualche milione di euro, e poi la tipografia me lo stampa il libro come dico io, con la copertina che dico io. E poi, pure se non c'è la casa editrice di grande prestigio, non so come Mondadori, Rizzoli, Feltrinelli, chi se ne frega. I libri li metto in commercio da solo, mi rivolgo ad un'agenzia di distribuzione e gli dico, ecco, questi sono i miei libri, cara agenzia di distribuzione, e la metà la prendi tu e l'altra metà la prendo io. Sì, però, ripeto, per fare questa operazione ci vogliono tanti soldi, tanti, tanti, tanti soldi, tantissimi soldi. Quelli che non hanno tutti questi soldi si devono accontentare di essere scrittori mancati, oppure se hanno 4 o 5 mila euro e vanno da un editore a pagamento. Però, soltanto chi ha tanti soldi può fare un'operazione come questa, anche se l'abbogato, l'onorevole Alfonso Luigi Marra poi ci fa tanti bei discorsi contro il signoraggio e però deve avere tantissimi soldi nelle banche, capito? La solita questione, no? Che tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare. Ma un caso come questo, un caso come questo un po' opposto, ma è come questo è il caso del signor Alain Elkan Alain Elkan della grande famiglia Elkan che è proprietaria, diciamo, della Fiat. Una volta quando si diceva Fiat e la nostra mente correva subito al nome Agnelli. Oggi no, oggi dire Fiat vuol dire Elkan perché poi di generazione in generazione è capitato che poi gli agnelli erano tutte donne e si sono sposati con degli Elkan per cui gli agnelli sono spariti gli agnelli come cognome sono spariti e sono rimasti tutti Elkan. Per esempio c'è lo scrittore Alain Elkan che è della grande famiglia Elkan egli non opera dentro la Fiat perché fa lo scrittore però succede questo che pochi lo sanno ma io ve l'ho detto in tanti video che la grande, grandiosa casa editrice Rizzoli è in buona parte proprietà degli Agnelli ed ora degli Elkan la grande, potentissima, nebulosa Rizzoli è in buona parte nelle mani prima degli Agnelli e ora degli Elkan e voi sapete che al vertice della Fiat non c'è Marchionne Marchionne è un grande operatore di marketing che devi ricevere al vertice c'è John, John Elkan John Elkan e lo scrittore Alain Elkan è il papà di John Elkan allora siccome gli Elkan la famiglia Elkan c'è un bel pezzo di proprietà della Rizzoli e poiché dentro la casa editrice Rizzoli ci sono tante sigle editoriali tante sigle editoriali tra cui la Bonpiani allora il papà del capo della Fiat il papà il capo della Fiat Fiat è John Elkan suo papà si chiama Alain Elkan e non vuole sporcarsi le mani nella fabbrica nella Fiat scrive e che fa? e che fa? e non va a scrivere per la casa editrice Bonpiani di cui il suo figlio c'è un bel pezzo di proprietà vedete quei soldi fate tutti eppure se Alain Elkan scrive della della meravigliosa Moneta la casa editrice Bonpiani mica può rifiutare di pubblicare i romanzi Monnetza di Alain Elkan e se voi andate a fare la verifica trovate che in 10 o 15 anni Alain Elkan ha pubblicato per Bonpiani della Rizzoli mi pare 15 o 20 romanzi o 30 romanzi andate a fare la vostra verifica scrivete libri sul motore di ricerca libri di Alain Elkan e vi salta fuori tutto 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 vi salta fuori pure che al principio inizio pubblicava con Mondatori e siccome però Mondatori non sta sotto gli Elkan Mondatori non sta sotto gli Elkan Mondatori dopo averne pubblicati tre o quattro di libri che hanno dato un calcio nel sedere e allora lui dice ma io vado a pubblicare per la casa editrice di cui la mia famiglia è proprietaria ecco è un caso opposto quello è di uno scrittore sarebbe insomma come se io Serafino Massoni fossi che so fratello sì se io fossi fratello di Silvio Berlusconi sarebbe come se io mi chiamassi fate conto se io mi chiamassi Serafino Berlusconi io Serafino Berlusconi fratello di Silvio Berlusconi io per scrivere romanzi non avrei dovuto fare una fila una fila di 20-25 anni poi ci sono riuscito a pubblicare per la grande editoria ma dopo 20-25 anni di sala d'attesa e no se io invece di essere Serafino Massoni mi chiamassi Serafino Berlusconi e fossi il fratello di Silvio Berlusconi e io pubblicherei tutti i libri che voglio per la Mondadori pubblicherei uno o due romanzi l'anno perché la creatività non mi manca capito quello che mi manca invece sono le spinte le spinte editoriali e così allora questo è Alfonso Luigi Marra è l'altra faccia della medaglia di Alain Elkan entrambi pubblicano tantissimi romanzi ma vanno in banca vanno a prendere centinaia e centinaia di migliaia di euro perché queste caciottare queste rigottare cari costano care non è che se mettere un biglini ah poi questa parla è una bambolina parlante una bambolina parlante cari non è che sta mica zitta fa il suo bel discorsino un parato memoria cari comunque voi andate a digitare pure su un motore di ricerca digitate Alfonso Luigi Marra e vedrete cosa vi salta fuori se voi trovate un solo libro di questo autore pubblicato da una casa editrice fatemelo sapere non esistono case editrici egli ha portato i suoi dati e vuole ricottare in televisione su web dappertutto poi li ha messi nelle mani di una buona agenzia di distribuzioni e li ha portati dappertutto e la stessa cosa che nell'altro verso della medaglia sta facendo da tanti anni Alain Elkan Alain Elkan che non vuole sporcarsi le mani nell'industria fiat approfitta della posizione di della sua posizione di diciamo grosso grande azionista della Rizzoli Bompiani per pubblicare i romanzi per la casa editrice Bompiani che fa parte della Rizzoli e la Rizzoli è in buona parte proprietà degli Elkan alias della fiat e così van le cose a questo mondo io ho già ho già fatto un video e vi invito ad andarlo a vedere intitolato gruppo editoriale Albatros il filo andate a vedere il video gruppo editoriale Albatros il filo cari amici e vedrete cosa si spende per pubblicare un libro presso una casa editrice a pagamento perché l'Italia l'Italia vedete cari se andate sul mio sito personale sul mio website personale voi potete leggere gratis questo pamflet questo pamflet letterario editoriale editori e scrittori lo leggete gratis e c'è scritto che in Italia ci sono 15 milioni di poeti e ci saranno di aspiranti poeti e 2 o 3 milioni di aspiranti narratori perché già il povero Duce l'aveva detto il povero Duce l'aveva scritto lassù all'Eur a Roma all'Eur scolpito nel marmo un popolo dei poeti stiamo parlando degli italiani un popolo dei poeti di santi di navigatori tra il numero uno ci hanno messo i poeti per cui in Italia abbiamo 15 milioni di poeti tutti vogliono scrivere in ogni caso o poesie o romane lavorare di meno ma scrivere tanto per cui noi abbiamo in Italia 15 milioni di aspiranti poeti ma gli editori i veri quelli veri gli editori veri non le possono più pubblicare i libri di poesie perché le poesie oggi non le legge più nessuno d'accordo? in più abbiamo 2 o 3 milioni di aspiranti narratori e degli aspiranti narratori ha già parlato il romanziere Umberto Eco nel suo romanzo Il pendolo di Foucault dove li chiama autori proprie spese cioè l'acronimo è APS autori proprie spese questo pamflet editoriale letterario parla proprio del mondo editoriale italiano delle case editrici a pagamento delle scuole di scrittura sapete che ci sono anche le scuole di scrittura dove vi insegnano a scrivere le poesie e i romanzi cari amici va bene cari amici su questo cari lo potete leggere gratuitamente lo potete anche scaricare gratuitamente dal mio sito personale www.mazzoniserafino.it ok cari amici vi lascio con questa bella caciottara o questa bella ricottara cari amici vedete rubi ruba cuori però parla parla perché voi l'avete vista parlare l'avete sentita parlare in tv queste ricottare queste caciottare che assume temporaneamente lo scrittore Alfonso Luigi Marra parlano stanno in biglini però parlano lo stesso cari va bene è una svolta al mondo editoriale se volete saperne di più non fate altro che andare sul mio sito personale cari amici va bene grazie se mi avete ascoltato e a tutti voi tanti saluti da Serafino Massoni